Musica Sabato 24 agosto, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia questa mattina Lucio Felicita. Si preannuncia un weekend da Bollino Rosso per il primo controesodo estivo. Traffico vietato ai mezzi pesanti su tutte le arterie. In proposito, Manuela Iorio. Sarà un fine settimana da Bollino Rosso, quello di oggi e domani, in occasione del primo vero controesodo che riporterà nelle città milioni di italiani dopo le ferie estive. Lo stop ai mezzi pesanti è previsto per oggi dalle 7 alle 23 e per domani dalle 7 alle 24. Partenze consistenti ci sono state anche ieri pomeriggio da nord verso sud, sia per chi ha programmato le vacanze in quest'ultima settimana di agosto, sia per chi si sposta semplicemente per il fine settimana. Occhi puntati sulle principali autostrade italiane, tra cui la 14 dove notoriamente si concentra il traffico di mezzi che dal nord sono diretti al mare. Controlli in aumento anche sulle arterie regionali, sulla statale 16, sulla Bifernina e sulla Trignina, dove nel fine settimana il traffico aumenta proprio per il flusso di auto che si dirigono verso la costa. La polizia stradale consiglia prudenza e di mettersi in viaggio nelle prime ore della giornata per evitare code e rallentamenti. Non solo strade, ma anche collegamenti aeree e surrotaie fanno registrare il tutto esaurito per questo weekend che, visti gli annunci del meteo, potrebbe essere l'ultimo dell'estate 2013. La strada di collegamento tra le fondovalli Succida e Tammaro non deve restare un progetto sulla carta, a dirlo è il consigliere regionale Salvatore Ciocca. La questione deve essere affrontata in maniera definitiva anche alla luce dell'imminente scadenza dell'anno di proroga per completare le procedure di esproprio dei terreni iniziato nel 2007, ha aggiunto il consigliere. Pertanto ho chiesto, ha sottolineato Ciocca, al Presidente Frattura, all'assessore Nagni e al Presidente della provincia dei Matteis di valutare l'ipotesi di prorogare i termini per evitare lo stop del procedimento. Quanto la cultura possa servire da traino per il rilancio del turismo? In alto Molise se ne è parlato ad Agnone nel corso del convegno su Luigi Gamberale. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Grande successo ad Agnone per il convegno su Luigi Gamberale, l'uomo di cultura agnonese vissuto tra l'Ottocento e il Novecento che ha tanto influenzato il dibattito pedagogico a livello nazionale. Il sidaco Michele Carosella, proprio partendo dalla cultura e dalle tradizioni di quella che ancora oggi viene definita l'Atene del Sannio, punta a un ulteriore sviluppo delle capacità attrattive agnonesi. C'è un centro studi alto Molise che è molto attivo, altre associazioni ugualmente dinamiche e il sottoscritto, oltre che essere sindaco, è anche assessore alla cultura. Insomma, ci sforziamo di tenere viva una tradizione e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Viaggiamo con il minimo, impiegando il minimo quindi delle risorse, però cerchiamo di sopperire a questo con delle idee. E l'idea di presentare le traduzioni di Luigi Gamberale dal poeta americano Walt Whitman dimostrano la qualità delle iniziative culturali qui in Alto Molise. Stesso discorso anche per Francesco Paolo, Tanzi, un docente di origini romane, oramai trapiantato ad agnone a tutti gli effetti. Anche Tanzi ritiene che il messaggio lanciato da Gamberale sia ancora oggi valido e pieno di contenuti. Dal punto di vista pedagogico, la sua didattica, la sua pedagogia, invita a una presa di posizione, a un insegnamento e a un'acquisizione da parte dello studente vivace, integrata, che dovrebbe ancora essere quella che ci auguriamo si possa raggiungere nella scuola. E poi la sua attualità di carattere internazionale, ecco perché tra fine Ottocento e primi Novecento Luigi Gamberale, viveva già nel mondo, ecco non in agnone nel Molise. Ed ora qualche appuntamento questa sera a Civitanova del Sannio, seconda serata con la Coppa, dalle 20 in piazza 24 Maggio. Sarà possibile degustare carne di maiale cucinata con le patate, secondo l'antico metodo contadino, in un enorme recipiente del diametro di circa due metri, che viene chiuso e sommerso di cenere e brace. Una cottura lenta per un piatto gustoso, che richiama nel Paese tante persone ogni anno. Una preparazione, quella della Coppa, che richiede circa 12 ore. L'evento è organizzato dall'Associazione Civitanovesi nel mondo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della cittadinanza, soprattutto nell'allestire la Coppa e fare il fuoco. I biglietti, anche oggi, sono in prevendita. E a Ielsi continua la festa in onore di Sant'Antonio di Padova, evento principale di questa sera, lo spettacolo musicale Che cos'è l'amor? Il tour di Demo Morselli e Marcello Cirillo, artisti del panorama televisivo nazionale, fin dagli anni Ottanta. Nel pomeriggio il memorial Nicola Passarelli, il momento religioso della benedizione dei fraticelli, e l'accoglienza degli standardi di Sant'Antonio di Ferrazzano. Bene, con questi appuntamenti ci fermiamo. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In evidenza c'è la politica. Tra Big e Bang esplode il PD. Micaela Fanelli lancia la sfida a ruta e leva il pezzo. È filmato da Pasquale Di Bello. Dunque il sindaco di Riccia, Micaela Fanelli, è il presidente della neonata associazione Big Bang Molise, una struttura legata a Matteo Renzi, che si propone di costruire un nuovo PD alternativo, a quello attuale e alla sua dirigenza. È partita la corsa verso il congresso del partito. In gioco la segreteria e non solo. Vediamo anche le altre notizie. Notizie sul giornale del Molise.it. Legge tagliacosti al Cosib di Termoli. Non si adeguano. Aspettiamo un parere legale, è stato detto. La cronaca alla vita del piccolo Giulio, attaccata ad un filo. Debiti della pubblica amministrazione ancora troppi ritardi nei pagamenti alle imprese. Le altre notizie. Ultimo weekend di agosto. Bollino rosso sulle strade. Avete sentito il servizio di Emanuele Agniorio. Poi da Campobasso la lenta agonia del mercato coperto. Fine festa del Molise. Concorso di idee per scegliere il logo. Ancora le notizie dall'Italia e dal mondo. Andiamo a vedere la prima pagina di primo piano Molise. L'apertura è sulla politica. Amnistia al CAV. Lo stop arriva dal Molise. Danilo Leva boccia l'idea suggerita dai Montiani. Per il PD è un inaccettabile tentativo di salvare una sola persona. Attesa per il destino politico di Berlusconi che fuori dal Parlamento lascerebbe lo scranno a Ulisse di Giacomo. In alto c'è la cronaca da Campomarino. Finisce con l'auto sotto un tir. 75enne trasferito a San Giovanni Rotondo. Mentre nella notizia che riguarda Campobasso il piccolo Giulio lotta. L'Italia prega per lui. Questa mattina è previsto un nuovo bollettino medico. Le altre notizie siamo a centropagina. I costi della casta. Indenità degli inquilini di Palazzo Moffa. Scoppia la grana in Casa Democratica. Base e giovani in rivolta contro l'adeguamento al decreto 174. Emergenza profughi intesa per raccoglierli nei comuni. Ma l'assessore Petraroia frena su un centro di grandi dimensioni a San Giuliano di Poglia. Alcuni richiami sulla sinistra da Campobasso. Ambulanti abusivi. Nessuna multa nel primo giorno di divieto. Da Pozzilli, piromane dello Stingone. I vigili del fuoco dicono che non è uno dei nostri. Una notizia che riguarda Vasto. Eccola qui. Rapina a mano armata. Alla parafarmacia ha preso l'autore. Qualche altra notizia. Siamo sullo Sport Serie D. Termoli e Boiano. Sabato di test. Vigilia di Coppa per i team Pentri. Campobasso, Falcione, Meo e Perretta rilevano il 1919. Il 1919 parte l'avventura. Da primo piano adesso uno sguardo al quotidiano del Molise che apre con l'emergenza profughi. No a campi di concentramento Petraroia al tavolo con le regioni e i ministri. No ai grandi numeri ma sì i ragioni sugli spar. Per il governo c'è l'emergenza più concreta l'ipotesi di accoglierli nel villaggio di San Giuliano di Puglia. In alto, sotto la testata, ore decisive per le sorti del piccolo Giulio. Si continua a sperare. La situazione resta grave. Stamattina i medici dirameranno un bollettino. Da un uovo a Cliternia, lite in famiglia, sfocia in furiosa rissa. E ancora cronaca dal basso Molise, Campomarino, auto contro camion, un ferito grave. Andiamo a Disernia. Tassa rifiuti, una stangata aumenterà del 30%. Mentre per la politica Big Bang, Molise e Fanelli a caccia di adesioni. E i giovani contestano i vertici. Ci spostiamo a Campobasso. A scuola la sicurezza non è un optional e scattano gli interventi di prevenzione. Dunque Campobasso e Isernia, i rispettivi comuni, danno fondo alle risorse. Il Carpino è malato, fiume inquinato. Si va adesso in procura. Lo sport, il calcio, lupi, pronta la nuova società. Lunedì il raduno per la Serie D, attesa per il derby di Coppa. Ad Agnone arriva l'Isernia. Ancora Serie D. Sette colpi del Boiano. Ci sono anche Marco Di Baia e Migliorelli. Mentre per la Coppa Italia parte nel pomeriggio la stagione calcistica molisana. Dal quotidiano ai fatti del nuovo Molise. In evidenza la notizia che riguarda le scuole di Campobasso. Scuole in sicurezza Big Gino accelera. L'amministrazione comunale di Campobasso predispone interventi per diversi milioni di euro per cinque edifici. Sulla sinistra c'è la foto dell'assessore Nicola Cefaratti. In alto meno tasse universitarie e cannata al lavoro. Poi Fanelli, nuovo PD nel segno di Renzi con il Big Bang. La cronaca rissa violenta in strada. In tre finiscono all'ospedale. Da Campobasso invece deturpate le mura della città da scritte sgradevoli e scarabocchi. Vediamo qualche altra notizia sui fatti del nuovo Molise. La Fondovalle Tamaro è solo sulla carta, lo ha detto il consigliere regionale Ciocca, che chiede il completamento. Poi a Termoli, Sagra del Pesce, Termoli diventa tutta una frittura. Chiudiamo i fatti del nuovo Molise per dare uno sguardo alla prima del Sannio. Con le fitte che riguardano il Molise, c'è la politica. I renziani lanciano Big Bang Molise. La Presidente sarà Micaela Fanelli. Si tratta di un laboratorio per costruire un PD totalmente rinnovato. Adesso andiamo a vedere i giornali in cartaceo. In particolare siamo sempre sui regionali. La pagina del tempo. Eccola qui. Più spending, meno review. Di sensi, intanto, sulla regione, cittadini indignati per il falso taglio degli stipendi dei consiglieri. Di sensi anche nel PD. La metà dei giovani è senza lavoro. Poi si parla del Giro d'Italia con la bici elettrica. La scoperta della cultura locale. La notizia arriva da Termoli. Viabilità. Ciocca chiede il completamento del succida Tammaro. In basso, invece, il piccolo Giulio lotta tra la vita e la morte. Ancora cronaca. Auto tampona il tir. Grave un pensionato a causare l'incidente a zona di Termoli. L'aumento del traffico sulla strada statale adriatica. Diverse notizie in breve. Tra le quali in guida da Larino. Il sindaco celebra il primo matrimonio civile. Poi il Campobasso lavori nelle scuole per 3 milioni di euro. A Toro, invece, riapre al culto la chiesa madre. Poi il Campobasso, Palazzo Moffa, cerca un logo per festeggiare i 50 anni della regione. Infine, l'università va incontro a studenti e famiglie. Abbiamo concluso con i quotidiani regionali. Adesso andiamo sui nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Eccolo qui. C'è la politica in evidenza, ma anche le notizie che arrivano dagli esteri. Vertice PDL sulle sorti del governo. Tensione tra i partiti. Slitta intanto a lunedì il Consiglio dei Ministri. Il PD boccia l'ipotesi di amnistia. Lupi dice non la chiediamo. Letta, clima sereno, variabile. In alto, Obama studia scelte sulla Siria. Intanto si parla di un milione di bambini profughi. Dal Corriere della Sera adesso alla prima del tempo. Anche qui apertura politica su Berlusconi. Decide il destino di Letta. Oggi Falchi e Colombe ad Arcore. Pronto il piano per ritirare i ministri. Cicchitto. Tenteremo di evitare la crisi. Cancellieri e Mauro. I ministri aprono all'amnistia. Poi ecco qua il progetto dei big del PD. Alle urne senza primarie. Foto di Renzi e D'Alema. Ora uno sguardo all'unità. Amnistia. Altola a Berlusconi. Centrodestra le prova tutte. PD, SEL e Scelta Civica contro parlano di proposta indecente. Dall'unità adesso passiamo a Libero. I sondaggi spingono Berlusconi al voto. Scrive il giornale Vicolo Cieco. Aggiunge la soluzione politica. Non si trova e malgrado la condanna. Il centrodestra è largamente in testa per tutti gli esperti. Ma bisogna azzecare il messaggio elettorale. Da Libero adesso la prima del manifesto. Che punta molto sulle drammatiche notizie che arrivano dagli esteri. Contagio libanese. Tripoli in fiamme. 42 morti. Oltre 500 feriti per l'attentato più grave dai tempi della guerra civile. Colpite due moschee sunnite al termine della preghiera del venerdì. Per il Libano è la guerra civile. Dal manifesto adesso al sole 24 ore. Si parla di scuola. Ieri alcuni provvedimenti. Assunti 12 mila docenti. Chiedo scusa. Ma sui precari governo diviso. Il pacchetto della pubblica amministrazione è rinviato al Consiglio dei Ministri di lunedì. Tensioni PD-PDL su stabilizzazione degli statali e agenzia fondi dell'Unione Europea. Ora il mattino di Napoli. Anche qui la politica come potete vedere in evidenza. Berlusconi lite sull'amnistia. Atto di clemenza. Aperture di Mauro e cancellieri. No del PD. Dicono un'indecenza. Intanto governo diviso sull'Imo e sulla pubblica amministrazione. Dal mattino adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno. Rissa sulla amministrazione a Berlusconi. Anche qui oggi è vertice ad Arcore. Il PD basta con i ripescaggi. D'Alema scarica Letta. Il governo intanto decide sugli statali. E sull'Imo. Brunetta attacca il ministro del Rio dicendo stia zitto. Andiamo sui cartaci. Abbiamo la Repubblica. Eccola qui. Ministri PDL. No alla crisi. Lupi. Ci sono altre strade. Dice. Intanto oggi mega vertice ad Arcore. Franceschini riunisce i colleghi di governo pronti a far scudo a Letta. Poi questa foto. Il milionesimo profugo bambino. Si parla della tragedia siriana. Sette mila per se uccisi scrive Repubblica. Messaggero Berlusconi. Scontro sull'amnistia. Anche qui. Il centrodestra rilancia. Ma il PD chiude. Dicendo. È una proposta indecente. A centropagina. Falsi poveri. Finte invalidità. Truffa lo Stato da un miliardo e mezzo. Dall'inizio dell'anno. Denunciate 8 mila persone. 51. Gli arresti. Siamo sulla prima della stampa. I ministri e i figli provano a frenare l'ira di Berlusconi. Oggi summit ad Arcore. Potrebbe accettare i servizi sociali. E poi questa fotonotizia. Siria. La svolta di Obama. Pronti ad attaccare. Ma solo con il mandato dell'ONU. Emergenza profughi. Un milione di bambini in fuga. L'UNICEF. Rischio. Sfruttamento. Siamo sul giornale. Letta ai giorni contati. Maggioranza in bilico. D'Alema lo scarica e punta su Renzi. Il governo paralizzato anche sugli statali. In dubbio la manovra su Limo. Ingroia tracinato in tribunale. Accostò Forza Italia alla mafia. Dal giornale adesso. Alla gazzetta dello sport. Solo calcio. Grazie. Scrive il quotidiano. Tra nuovi arrivi e vecchi pericoli. Si ricomincia. E c'è Verona. Milan. Gli occhi sono tutti su Balottelli. Che stuzzica. Mentre San Doria. Juventus. Per Tevez. E i campioni. C'è subito un tranello. Intanto sul calciomercato. Napoli è fatta per Zapata. Ci sono anche chiaramente notizie che riguardano le altre discipline sportive. E con lo sport e con la gazzetta. Normalmente come di consueto terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon fine settimana. Vi ricordo alle 14 il TG con tutte le ultime notizie. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.